Un viaggio che ti condurrà verso il tesoro, te stesso. Hai mai pensato quanto è possibile trovare il tuo talento? Hai mai pensato quanto è facile poter trovare il tuo talento? Oppure se l'hai già trovati, come hai fatto? Come sei riuscito a trovare il tuo talento? Perché se ancora non sei riuscito ci sono strategie importanti che ti possono guidare per raggiungere più velocemente i risultati. Cioè trovare il tuo talento o i tuoi talenti, sia che siano personali o professionali. In questo libro ho racchiuso alcuni ingredienti che possono essere di aiuto per far sì che puoi trovare più velocemente qual è il tuo talento. È la possibilità di sfogliare velocemente attraverso delle pagine un manuale oppure comunque un libro che ti può condurre verso il tuo viaggio interiore, l'esplorazione interiore che sono i tuoi talenti. Quindi se puoi scoprire qualcosa di diverso ti consiglio vivamente di acquistare questo libro e di trovare tutte le ricette che ti aiutano a sviluppare al meglio te stesso. Ciao!